Questa è una storia antica, anzi, eterna. Ha qualcosa da fare domani? Perché? Perché io e lei passeremo una notte insieme. Chi te l'ha dato questo? Era di mio padre. È un occhio portafortuna. Serve più a te che a me. Se mi lasci faccio una pazzia, lo sai, vero? Napoli, 26 giugno 2017, ore 10.23. Cadavere di sesso maschile, non identificato. Età parente, compresa tra i 30 e i 35 anni. Conoscevo la vittima. Ci sono altre foto mie così. Ha visto qualcosa che non doveva vedere? Per questo l'ha uccisa. Non lo sa. Cinta. In che guaio mi sono messa. State ancora indagando su di me? Sì. 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 Sì.